Buonasera, benvenuta a Maria di Modica, adesso ancora sul palco un'altra pluricampionessa per questa sera, lei è modicana e si chiama Valeria Calabresa. La nuova persona sportiva in tutti i sensi, bisogna anche applaudire per Maria Chiesa, non si sono, mi raccomando. Beh allora, ho già parlato di queste due attività in maniera importante, io vorrei invitare anche sul palco i due coach della serata che è per la Ergins e mister Joan Larsson. Buonasera. E poi ancora abbiamo parlato della Wagner Team per Valeria Calabrese, eccolo qui, Riccardo Wagner. Buonasera. E allora, a questo punto, regia, mi sembra che siamo veramente pronti, come si usa nelle grandi occasioni, cominciamo dall'ospite e quindi mandiamo l'inno nazionale svedese. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.